Io sono Originale, una iniziativa del Ministero dello Sviluppo Economico realizzata in collaborazione con le associazioni dei consumatori con l'obiettivo di mettere in campo attività di informazione e di sensibilizzazione per i cittadini sulla contraffazione e sulla tutela della proprietà industriale. Io sono Originale gira l'Italia con una divertente caccia al tesoro da nord a sud del paese. Questa è una caccia al tesoro contro la contraffazione per essere creativi e originali, proprio come dice il logo Io sono Originale. Si svolge in sei città italiane, questa è la terza tappa che facciamo, siamo stati a Torino con cittadinanza attiva, Catania e adesso siamo qui con Adiconsum a Potenza. Poi ci sarà Civitanova Marche, Roma e Milano, quindi questa caccia itinerante per la lotta alla contraffazione, contro la lotta alla contraffazione e per la legalità, questo è un po' il senso della giornata. Potenza è onorata di ospitare una delle tappe della calcia al tesoro, sei in alcune realtà italiane individuate dal Ministero e grazie anche all'aiuto di un'altra realtà che si occupa di organizzazioni eventi come Anima Giovani, oggi siamo a Potenza e anche qui la calcia al tesoro speriamo sarà un'iniziativa che troverà un riscontro nella cittadinanza, soprattutto il coinvolgimento dei ragazzi perché siano informati e capiscano sostanzialmente qual è il valore della tematica odierna, quindi la contraffazione, il falso e la lotta contro l'illegalità. I ragazzi per riuscire a trovare il tesoro, ovvero i premi targati Io sono originale, si sono confrontati in un percorso lungo le strade della città, con prove pensate per fornire informazioni e stimoli ai partecipanti allo scopo di diffondere la cultura della legalità contro il mercato del falso, sempre in piazza Matteotti a Potenza allestito un desk per fornire informazioni sulla contraffazione e distribuire materiale sul progetto. Grazie a tutti!